Wella, wella ragazzi! Come state ragazzi? Spero tutto bene! Eccoci qua in diretta sul mio canale, come faccio sempre in realtà sulla mia Instagram, però mi sono detto, dai, oggi non farò una live su Instagram, invece farò una live qui su YouTube. Quindi, come state? Spero tutto bene! Fatemi sapere nella chat se avete delle domande sull'inglese, sull'italiano, sull'apprendimento delle lingue. Non ho postato da qualche parte che sarei qui in diretta, quindi scusate che non ho dato un annuncio, però spesso capita così che mi piace semplicemente andare così in diretta senza preparare, no? Quindi mi dispiace per quelli che vogliono vedere questo in diretta e non ho dato qualche annuncio che dire, no? Non mi viene esattamente adesso la parola migliore. Comunque, come state? Che fate di bello? Cosa avete fatto questo weekend? Se avete delle domande sull'inglese, sull'italiano, sull'apprendimento delle lingue, fatemi sapere nella chat. E anche se avete delle domande su come essere YouTuber, come essere insegnante delle lingue, come studiare varie lingue, come studiare molte lingue contemporaneamente, cioè allo stesso tempo, sarei felice di rispondere a voi in diretta. Perché no? Come sempre sono qui con oggi la bella maglione. Maglione è maschile o femminile? Il maglione, la maglione. Non so, non mi ricordo. Voglio dire il maglione, fammi cercare, perché non voglio dire una cosa sbagliata. Però questo serve. Ogni cosa che dico, io so che può essere utile per voi che state studiando l'italiano. Quindi ogni cosa che dico può essere una lezione, no? Perché una lezione non è solo quando ho le parole scritte così, o una lavagna dietro di me, o quella lavagna digitale che mi piace usare nei miei video. Imparare è anche questo. Ascoltando qualcuno, ripetendo, scrivendo gli appunti. Quindi, cosa faccio adesso? Ho preso il mio telefono, possiamo anche dire il mio cellulare, il mio telefonino. Ci sono molti nomi per questo depositivo o dispositivo, voglio cercare. Quindi, ho preso questo telefonino, per quale motivo? Per trovare una traduzione. Perché voglio cercare the sweatshirt e la felpa. Ecco, mi sono scordato della parola. Questa si chiama una felpa. In inglese c'è una parola, sweatshirt. Possiamo anche dire hoodie. E come mai hoodie? Perché questa cosa qui si chiama a hood. Non mi ricordo come si chiama in italiano, quindi cerchiamo ancora una volta la traduzione online. Vediamo, questa non è una traduzione corretta. Cappuccio. Il cappuccio è questa cosa qui. Il cappuccio. Adesso tolgo il cappuccio. Voglio aggiustare i capelli. Così sto bello per voi. E quindi, e quindi niente. Questo è il cappuccio. Abbiamo la felpa con la grafica Uela. La mia grafica. Anzi, penso anche la camicia che sto portando. Sotto di questo. Io sono tutto Uelizzato. Tutto, tutto Uelizzato. Anche la cosa che ho sotto della felpa. Dice Uela. Come potete vedere, io adoro la mia merchandise. E come sempre è disponibile per tutti voi in tutto il mondo. Anche la tazza che uso sempre. Oggi invece bevo questa grande bottiglia d'acqua. Voglio dire rinnovabile. Però non è rinnovabile. È solo che si può riempire sempre. Ok? Quindi si può riusare sempre questa bottiglia. Quindi io la, perché è una bottiglia, io la riempio con acqua. Che significa? Ok. Io prendo questa cosa qui che non so come si chiama in inglese. Sarebbe the tap. Non so come si può dire in italiano. Quindi questo è come studio. Ok? Io studio così sempre. Vediamo se c'è una parola. No, non è la cima. Questo non è. Forse the cap. Vediamo se c'è the bottle cap. Forse cappuccio. Vediamo. The bottle. Vediamo se c'è una parola per questo. Il tappo. Forse si può dire il tappo. Il tappo della bottiglia. Quindi lo levo, lo rimuovo, così è aperto e poi verso acqua dentro la bottiglia e poi la riempio. Avete visto quante cose avete imparato adesso? Ho riempito la bottiglia. Quindi adesso riempio, poi prendo, si può dire il tappo? Sì, secondo me tappo però mi fa pensare ad una bottiglia di vino. Però va bene. E poi io voglio prendere un sorso. Un sorso sarebbe così. Un sorso. O posso dire voglio bere l'acqua. So to take a sip would be like prendere un sorso. Quindi cosa facciamo quando una persona dice non si deve pensare in inglese quando si parla italiano. E io so come per voi, e grazie Stefano che mi dice che si può dire tappo, quindi grazie si può dire tappo. Abbiamo avuto la conferma, quindi la bella della diretta, possiamo avere la conferma subito. Grazie Stefano. Comunque, e come vi ho detto ragazzi, io faccio queste live per rispondere alle vostre domande, quindi se avete delle domande fatemi sapere sull'inglese, italiano, tutto questo. But what I was saying, solo per fare una piccola traduzione se non vi dispiace ragazzi, perché c'è anche gente qui che vuole imparare l'inglese. Learning a language and having a lesson doesn't only have to be your traditional kind of lesson where I have the text at the bottom of the screen, or I have a board behind me, a chalkboard, a whiteboard, or a digital whiteboard. We can also learn just by living and hearing people talk and repeating after them. So what I was doing was showing you an example of how I study. And as you can also see, I digressed. I went off on a tangent, as we said. Ho divagato. Ho detto una cosa tangentale. Non mi piace esattamente, però va bene, non mi piace proprio, però ci sta. Quindi io stavo semplicemente per dire, sto portando la felpa, volevo dire maglione, e non mi sono ricordato l'articolo. Quindi sono andato sul mio telefonino e ho cercato così studio. Poi ho detto, dai, prendiamo la bottiglia. Quindi io seguo il mio istinto, se si dice così, o forse intuizione. I followed my, yeah, io sono andato dove volevo andare, così studio. A volte ho un'idea, faccio una live. E poi ho detto, eh, risponderò alle domande. E poi ho detto, ma voglio spiegare questa cosa. Quindi io vado dove mi portano i desideri. Questo è come studio. Questo è come studio tutte le lingue. Perché ho detto, cavolo, non so come si dice tappo in italiano. Una parola utile, una parola semplice. Però non è che devo spiegare un tappo di una bottiglia d'acqua sempre in italiano. Quindi pensate un po'. Io insegno l'italiano, però a volte anche io dico, cavolo, come si dice? Eh? Avete visto? Quindi, per parlare di smart device, the word is device. So your smart device would be a dispositivo. Un dispositivo è anche un nome per un telefono così. Perché i dispositivi sono tutti gli devices. All of your smart devices or your devices in general. Electronic devices è anche un termine che usiamo. E c'è... non c'è qui. Io uso sempre reversal context. È un ottimo traduttore. Uso anche Google. Uso Google e pure reversal context. Così vedo la traduzione che mi piace di più. Va bene? Quindi niente, ragazzi. Come sempre, sono qui per rispondere alle vostre domande. Se ne avete alcune. Sull'inglese, l'italiano, l'apprendimento delle lingue. Tutte queste cose così. E quindi niente. Per una persona che dice, ad esempio, che si sente bloccata nel studiare, come si può fare, come si può andare avanti. Cerca di spiegare l'ambiente intorno a te. Tu puoi dire, ad esempio, le cuffie. Le cuffie. Perché ho appena finito una lezione. Quindi stavo qui con il computer e mi sono detto, dai, io voglio continuare. E quindi non ho un'altra lezione adesso, perché è l'ora di cena qui in America, quindi devo mangiare. Però mi sono detto, guarda, non ho proprio fame adesso, quindi perché non fare una cosa con voi amici che mi seguite? E quindi sono qui. Quindi ho preso le cuffie. Le cuffie. Le cuffie. Perché usiamo queste cuffie? Perché le mettiamo nelle orecchie, ok? E poi le attacchiamo al computer, così possiamo sentire. C'è anche un piccolo microfono, così quando parlo qualcuno mi sente. Però parliamo di un'altra cosa un po' interessante. Perché uso le cuffie così con la coda? Se non sbaglio si chiama la coda. E come avete visto, un termine o un'espressione molto utile quando studiamo le lingue, io ho detto se non sbaglio, no? O se la memoria non mi inganna, se non ho torto, o se sbaglio, non so come si dice, se mi permetto, se non vi dispiace. tutte queste espressioni sono utilissime. Quindi, prima di spiegare questa cosa, questa piccola storia che vi volevo raccontare, vi spiego, vi parlo un po' di queste espressioni, va bene? Vi dico in inglese se non vi dispiace. If you guys don't mind. If you guys don't mind. Or simply put, if you don't mind. Se non vi dispiace. I can also say, posso anche dire, se non ti dispiace, se parlo solo con una persona. So, if I'm speaking to one person, I can say, if you don't mind. In Italian, however, if I'm talking to a group of people, I would say, se non vi dispiace. Se non vi dispiace. This is a thing that I'm thinking about doing. And if you guys are interested, let me know. I would like to do a new series of videos where I talk about grammar, but it won't feel like we're talking about grammar. Because what I'm going to do is just do a listen and repeat kind of thing. Probably no subtitles. No text here below. Just me talking, just like I did in my dialect video. If you guys would like to check it out, just head on over to my channel. It's the video I made two videos ago. And it's where I talk about how I learned my family's dialect. It's just by listening and repeating. And as I watched the video back to see how I did, I thought I did a good job. Because I said, wow, if I didn't know any of these words, I could learn from how I was explaining. So, I'm thinking about doing that as well with Italian and also with English. Okay? And as you guys can see right now, I'm trying to enunciate. I'm trying to speak very clearly. Because one of the difficulties that we all face as students of languages is the challenge of understanding all of the words that are being said. Often what happens is we hear one sound and we can't distinguish one word from the other. So, as someone who teaches and studies languages, I have gotten into the habit of slowing down. Io ho questo abitudine di rallentarmi. Voglio rallentare il mio parlato. Il mio parlato è più rallentato. Parlo più piano. Parlo più lentamente. Velocemente? lentamente. Lento. Veloce. Lento. Veloce. Avete capito? Poi quando parlo ad alta voce o ad alta volume, poi quando parlo a basso voce. Avete visto? so that's how you can learn random little little things. Use your body. Use body language. It helps. Il linguaggio del corpo. Quindi stavo per dire I was about to say Oh, meglio dire, però stavo per dire I was about to say come dicevo as I was saying stavo per dire I was about to say quindi stavo per dire che uso le cuffie con la corda perché secondo me la qualità dell'audio è meglio perché non si usa bluetooth. Quindi questo perché ancora uso questo? Vecchia tecnologia ormai, eh? Però non è importante perché adesso parliamo delle traduzioni e secondo me sono molto più divertenti, no? Stavo anche per dire stavo anche per dire I was about to say or I was about to talk about si può anche dire that expressions little filler expressions are everything è tutto è tutto ragazzi quindi quando vi dico ad esempio like I was saying as I was saying come dicevo come dicevo è importante sapere come dire ad esempio se non vi dispiace if you don't mind se non ti dispiace if you don't mind in inglese resta sempre la stessa frase questo ci aiuta quando parliamo anche quando io parlo spagnolo o portoghese ancora il mio livello in queste lingue non è altissimo e non è altissimo perché non studio tanto e va bene perché i miei obiettivi non sono come l'italiano e il francese dove voglio essere perfetto quanto possibile no ragazzi nessuno è perfetto però possiamo sempre cercare di andare nella direzione della perfezione no e quindi non è perfetto però me la cavo che vuol dire me la cavo I get by I get by me la cavo anche quando una persona mi dice ma parli bene l'italiano io mi piace essere modesto o si può dire modesta penso è sempre femminile però vediamo penso è sempre così modest modest umile modesto si può dire ok cerco di essere modesto quindi quando una persona mi dice parli bene l'italiano a volte dico me la cavo me la cavo I get by I get by yeah I can I can get by si può dire quindi basta che me la cavi e va bene va bene così va bene così so all these little expressions it's all about expressions I have a filler words and phrase list it's my number one bestseller on my website after I'm done filming the live version of this video I'll put a link for it down below but if you just go to weilatom.com hit store I think it's the first thing I have available it's just a list it's all that it is it's like a few page long list and it just shows some filler words in I think it's and I have it organized where all of the phrases have something to do with one another so so yeah hope that helps guys I speak in language I speak in phrases all the time and knowing little things like if you say it this way if my memory serves me correctly if you don't mind if I'm not mistaken if I'm not mistaken if I'm not mistaken these little things they help so much because you're communicating to hey I'm not too sure about what I'm saying so fill me in if I'm wrong or fill in the blanks where I'm wrong or correct me if I'm wrong correct me if I'm wrong right so yeah grammar but not really exactly exactly that's how I love to learn I don't want to feel like I'm sitting in a classroom the classroom is a wonderful place it can be inspiring it can evoke a lot of critical thinking but I've always found I learn most when I'm just communicating with people freely just like this all right so Danny asked it's been years since I last studied Italian how long do you think it will take me to relearn and get back to the immediate level so Danny I'll tell you this and then I'll also answer the question in Italian quindi risponderò a questa domanda anche in italiano va bene so Danny so Danny ci chiede adesso quanto tempo io penso che ci vorrà per riprendere gli studi per andare al livello intermedio come Danny era ad una volta so I would say that there are a lot of ways to approach this but what I found is that ciao Francesco spero tutto bene di a Roma the thing with a language is it reminds me a lot of muscle memory when we do things physically so I'll give you an example there are some instances where I haven't played a sport in a long time and then the moment I engage in doing that sport again I sort of pick up where I left off I might be a little rusty un po' arrungito forse ho perso un po' la mano I'm a bit rusty ho perso un po' la mano haven't done something for for a long time but as soon as I get back into it I tend to do pretty well and so I would say that's the same with the language what happens is for whatever reason you're not as engaged with with the language as it used to be and that's normal life happens you know but the good news is it's always there waiting for you when you want to come back to it so as soon as you jump back into it arrunginito thank you thank you arrunginito see sometimes I don't even realize I'm making a mistake so thank you for correcting me Francesco grazie arrunginito arrunginito but um what was I saying as soon as you get back into it you will get into the flow you might be a little rusty but you will get back into the flow and it's always there waiting for you I believe is what I was also saying and the thing is this the things that were solid in your understanding will always be there the things that you had to maybe remember like a mnemonic device or maybe you had a little trick that would spark your memory to remember something those are going to be the things that are farthest from your recollection those are going to be the things that will take the most effort in getting back into so I'll give you an example about a day or so ago I happened to meet a group of French people and something that happens is when I see people speaking a language that I speak I love to talk to them and I get the benefit when this happens here in America is that people are really excited to meet somebody who speaks their language and it's not every day that you meet an American that speaks French at least in my experience and so when I spoke to these people I just said a simple in French that was and they're like oui and then we start talking and one of the mistakes that I made and I realized it as soon as I made it was I used the wrong helping verb for their version of the passato prossimo which is called the passé composé and so I said vous avez venu ici and it's vous êtes venu ici so you have to use essere same thing in Italian but I made that mistake and perhaps that's a mistake I always made perhaps that's just a little tricky thing because I know in French the difference with Italian is that their version of essere in the past tense takes their version of avere as its helping verb in Italian it doesn't work that way we say sono stato in French the equivalent is ho stato incorrect in Italian big mistake everybody makes ciao ben come va big mistake everybody makes oh andato no sono andato siamo andati lui o lei è andato è andata così si dice so I made an elementary mistake but I remembered it right away and I didn't care they understood what I had to say and it doesn't matter but the point is because I knew in the back of my mind I always had to remind myself okay well remember in French you say j'ai été and not je suis été you say j'ai été pretty sure I want to double check but because I had to use that let's translate from Italian to French let's do that so I'm going to use my translator sono stato let's see it should be j'ai été yep it is j'ai été and so I made that mistake so because I was always thinking and I haven't used my French that much lately but I've been getting back into it maybe like you Danny I made that mistake but what happens the faster you get back into it the sooner you get back into it you're going to be going a gonfie vele in no time andare a gonfie vele che significa andare alla grande e andare molto bene avanti gonfie vele gonfire non mi ricordo il verbo così but gonfie significa swollen blown up okay gonfiato is blown up bloated if you're going gonfie vele vele are sails you're going full steam ahead right you're going really well the wind is in your sails we have an expression like that right you got the wind beneath your sails or something wind beneath your wings you're doing really well so andare a gonfie vele means you're going to be going you're going really well so fammi fare la traduzione se non vi dispiace gonfiare ecco grazie francesco gonfiare è il verbo in italiano gonfiare è come like to blow up to get swollen to be to be swollen mi piace swollen troviamo alcune diversi diverse parole va bene allora vediamo in inglese sempre usando reversal context che mi piace allora facciamo così to inflate to swell blow up bloat bus a boost to pump up to fill and no problem danny happy to hear it and maybe you'll like also hearing the the answer to your question in italian ok se non ti dispiace se non ti dispiace va bene quindi allora danny ci ha chiesto come si può fare quando non si è studiato una lingua da molto tempo ma adesso si sta riprendendo gli studi riprendere gli studi riprendere gli studi to get back into it to pick up your studies again to pick it back up to pick it up again mi piace mi piace to pick it back up again riprendere io dico sempre che è come fare uno sport che non si è fatto da molto tempo quando non si è fatto uno sport da molto tempo a volte è un po difficile è un po difficile perché si è perso un po la mano non si può andare avanti come un vip no che dire come un grande subito si deve ripartire ma non da zero però si riparte e quindi io ho detto che le cose che sono state sempre concrete sempre fisse così nella tua memoria rimarranno sempre lì perché vi do un esempio non l'ho detto in inglese però vi do un esempio adesso ognuno sa presentarsi in una lingua vero è la prima cosa che impariamo a fare mi chiamo tom sono americano parlo l'inglese e l'italiano ognuno può dire questo velocemente e come mai perché è la prima cosa che si studia è la cosa che si dice sempre quindi più pratica che fai meglio che sarai mi piace a un ritmo un po questo mi piace e quindi mi piace come suona però quando viene ad altre cose cose che non diciamo mai ci blocchiamo però è naturale dai è naturale io non sapevo dire il tappo della bottiglia non è niente comunque vi ho dato questa storia di quando pochi giorni fa ho incontrato un gruppo di francesi li ho fermati perché voglio dire i francesi non il gruppo ho fermato questi francesi così per strada casualmente così perché a volte quando mi sento quando sento una lingua che so parlare io voglio parlare con quella gente e so che essendo qui in america non è la norma sempre trovare qualcuno che sa parlare l'italiano francese così no quindi so che non dispiace ai turisti spesso sono felici poi mi hanno chiesto indicazioni no come arrivare in questo quartiere come fare questo come fare quello quindi anche utile per loro quindi ho sentito francese e mentre camminavo ho detto dai perché non salutarli ho detto ah ma siete francesi e ho detto in francese mi hanno detto sì e abbiamo iniziato a parlare è dato che solo in questi giorni sto parlando molto più francese che in passato perché mi manca tanto e non ho parlato molto francese in questi giorni poi scusate che adesso il sole sta tramontando un po e non mi piace un po di luce va bene no così mi vedete quindi quindi niente mi piace la luce naturale quindi quando posso io cerco di sedermi davanti ad una finestra però va bene forse devo fare questi video all'aperto perché ormai fa bel tempo comunque io sto divagando tanto i'm digressing too much i'm going off on the tangent però va bene va bene per esercitarsi così con le lingue no così vediamo cosa sappiamo dire e cosa non sappiamo dire comunque ho parlato con questi francesi e certe cose potevo dire con facilità era facile altre cose però sbagliato e che cosa ho sbagliato con che cosa ho sbagliato allora ho sbagliato quando volevo dire voi siete venuti qui io ho usato l'ausiliare sbagliato e quindi ho detto questo è sbagliato in francese si deve dire perché si deve usare il verbo ausiliare essere in francese e non avere quindi e come mai ho sbagliato questa cosa dei principianti è un errore dei principianti ma perché l'ho fatto allora ho fatto questo sbaglio perché sapevo in the back of my mind ho saputo qua in the back of my mind che vuol dire if something's in the front of your mind in the front of your consciousness i don't know just making that up that means it's it's fresh it's fresh in your mind if it's in the back of your mind è un pensiero non così ha bisogno un po' di tempo un po' di sforzo no per togliere questa cosa per tirare avanti tirare fuori questa cosa tirare fuori tirare fuori tirare fuori che vuol dire avete saputo voi sapete adesso no tirare fuori to pull something out so i pulled it out of the back of my mind ad esempio le cose che stanno qua le cose che sono qua sono più difficili they're the farthest from my reach sono più lontane dal mio portato penso si dice dalla mia portata my reach penso si dice e quindi niente sì il mio portato i think portato is rich cerchiamo questo quindi perché sapevo che il verbo essere prende il verbo avere come ausiliare in francese non in italiano mi sono confuso perché non parlo così spesso francese come ad una volta ma adesso le cose stanno per cambiare things are about to change le cose stanno per cambiare things are about to change portato sono due concetti avulsi io non so la parola avulsi vediamola il significato dato che ho l'applicazione qui acceso avulsi che parola bella però avulsa significa detached divorce disassociated ok ok fuori dal mio i think it's portato let's see fuori dal mio portato out of my reach out of my league ah ok dalla mia portata is that it out of my reach out of my league out of my hands fuori dalla mia portata it's out of my reach it's out of my league non si usa out of my league particolarmente in questo contesto però sì but even you see how that works this expression i can't remember the last time i said fuori dalla mia portata but it comes up naturally based on the feeling so if we go all the way back to something i was saying at the start of this video and then i'm going to close it up because it's been 33 minutes i think that's enough time but you have when when people say think in a language right how do you think in another language if i'm telling you adesso voglio tirare il tappo voglio levare il tappo voglio rimuovere il tappo voglio mettere il tappo sulla bottiglia voglio aprire la bottiglia voglio bere un po d'acqua adesso prendo la bottiglia la metto qua this is also a great way to learn object pronouns prendo la bottiglia la metto qui da parte i'm putting it here on the side la metto da parte quando metto un po di soldi da parte che significa i put some money aside i'm saving some money ho messo di parte un po di soldi ho messo di parte un po di soldi voglio risparmiare i want to save perché voglio viaggiare because i want to travel cause and effect i'm doing something why i'm and that's a good way to study as well voglio risparmiare then ask yourself perché perché voglio viaggiare can you explain both sides of that very good tip for learning for practicing so when people say think in the language well what's going to happen if i say to you questa è una bottiglia right and you've never heard the word bottiglia before at the end of the day you will always associate it with the word in your native language that is the first word that you use to assign meaning to this object so in my opinion when people say think in the language it's inevitable that you will still associate things to your native language i will still associate things to english but what i interpret it as meaning based on my experience and how it feels to me oh mettere da parte did i say di parte sorry about that mettere da parte is correct mettere da parte thank you mettere da parte to put aside mettere da parte okay um you're still it just means that i'm not going to be thinking word for word in english and making a translation instead what i'm going to do is think what is the italian way of saying it mettere da parte i'm not thinking about what that means word for word i'm just saying mettere da parte means to put aside okay to put aside some cash mettere da parte un po' di salti okay so that's what i believe but there are instances where i learned a word first in italian and so it's hard for me to think of the word in english or maybe there's a translation that i don't like that happens too so don't get too caught up in when a teacher or someone tells you devi pensare solo in inglese quando parti inglese solo in italiano quando parli that quite that thing has always frustrated me because i'm like what are you talking about it doesn't work that way for me that's just been my experience okay but one of the things that i do want to say is the feeling of words when you first start speaking a language you may have no problem using curse words using foul language using foul language it may not feel like foul language to you you may laugh and love seeing people be like oh my gosh look at what this person's saying because it doesn't hold meaning to you a good metric i would like to say to short sort of be like where you're at with the language is do curse words now do you feel embarrassed when you say them do you feel like i shouldn't say that out loud that's a good way of knowing that you have what we like to call a felt meaning do you feel the meaning of the word when someone says something to you whether positive or negative can you feel what that means beyond the veil of translating okay instead of hearing something filtered okay can you feel what it means when someone says you're like wow for someone to say that that means they're really grateful or something like that that's a big sign so if you just have a word where you're just like i feel this is right that's a good sign so that's the thing with with um i just knew it worked in that in that situation it came it came naturally to me because i felt it you see what i'm saying so that's why i believe in thinking about actions the way that people are pay attention to the words that they're saying and the actions that follow that's going to give you some clues as to how it works okay so that's why you know watching films and stuff is useful i always say watch a short video watch a short clip and this actually came from i think if my memory serves me correctly um to be out of my league it's league with a g l e a g u e l e a i can't remember how to spell it but it's league like when i lega but uh but yeah so back in the day youtube had i think an eight minute maximum on videos that you could upload so if you are an og a viewer or youtuber you will know this they used to have an eight or ten minute limit on videos so there would always be like part one part two part three of longer form content now there is no limit but i remember i would often watch videos that were only like eight minutes long and they would be like of a tv show or whatever maybe it was a film and what i would have the benefit of doing was re-watching the video multiple times because it wasn't that long and so because i knew after la prima vista after the first watching forse si può dire la prima guardata mi piace questo questa frase l'ho ben inventata at all after the first viewing i then knew what was coming so then i could re-watch the clip and focus on the things that the people are saying and pick up on words that i didn't understand before and then i can say oh so when you use that expression maybe you use it just when people are sad or then i would write it down go talk to a friend and be like in what context can you use this see how it works it's a great way to learn it prima guardata non si dice posso dire dalla faccia la faccina la faccina come si chiama in italiano the emoji che hai usata però mi piace la prima guardata comunque let me finish up um let's see va bene so let's see here if i missed anything and then we will close this up ah very that's a very good question patrie so patrie if you are still watching you wanted to know if you would tell someone sai il tedesco or conosci il tedesco you would say sai parlare il tedesco o conosci il tedesco va bene sai il tedesco in my opinion would make sense but i wouldn't advise you to say it io ti sconsiglio ti sconsiglio di dirlo i would not advise you to use it ti consiglierei invece ti consiglierei invece di dire conosci il tedesco sai parlare il tedesco i would suggest you say instead ti consiglio invece di dire i would suggest i would advise advise è un po' troppo formale io ti consiglierei di dire i would suggest you say i would suggest you say okay i would suggest you say ti consiglio di dire this is how i study phrases and then if you want to practice with verb tenses ti consiglio i suggest ti consiglierei i would suggest ti avrei consigliato i would have suggested put it into context like that all right allora si uh allora francesco i congiuntivi futuro e anteriore ho già insegnato in wala university però qui su youtube sarebbe molto utile allora vediamoci your question here so how about for a beginner speak about listening as being more important i'm still yeah so here's what i'd say uh uh chi when it comes i would say work on whatever you're having the most effect with if that makes sense whatever is working the most for you at this time so for example here's what i'm doing for spanish because i'm a real beginner i was trying to do conjugating of verbs i've got a workbook i'm like trying to do all that right zero motivation to do it i have no desire to do that so what did i decide to do instead i said okay let's do something different i just enjoy writing mock conversations and then asking pen pals if what i wrote is correct i then look up the things i don't know how to say online i enjoy then conjugating from there if i find a verb that i like i'm like oh i wonder what it looks like in all of its forms then i'll go into it so i've just been saying i've been studying spanish i just started studying spanish again i used to study spanish in the past see how that works so i'm covering all these bases of different verb tenses without even really trying to but just saying one thing so so yeah intendo in italiano perché in italiano non esistono anno forse ho frainteso maybe i'm misunderstood for so frainteso io ho insegnato non i congiuntivi futuro scusa il futuro semplice e futuro anteriore questo è quello che ho insegnato si tipo avrò fatto avrò fatto e cose un po così quindi io a io farò io avrò fatto è questo che ho insegnato so yeah so i hope that helps so basically i would say that if you prefer listening go for listening if you prefer writing go for writing i like to interact with people so i use hello talk i like to talk to people i like to send audio messages with spanish i have not been listening to anything in particular i've just been writing and messaging people and talking to them like this and uh yeah that's what i've been doing so i would say go with whatever you're having the most pleasure doing whatever you're having the most fun doing and whatever seems to be working the best so all right cool quindi sì credo che questo sia tutto ragazzi siamo quasi al quarantacinque quarantacinquesimo minuto e niente se avete altre domande fatemi sapere però it is getting late si è fatto tardi it has got late it has gotten late si è fatto tardi it's late now e io devo cenare e quindi si se avete altre domande fatemi sapere cercherò di essere sintetico cercherò di essere sintetico che significa i'll try to be brief i'll try to be brief cercherò di essere sintetico great expressions guys i do la frase del giorno on my instagram it's not every day so it's not a cosa quotidiana it's not something i do daily ogni giorno but it's something i do quite often e una cosa che faccio abbastanza spesso e una cosa che faccio abbastanza spesso it's something i do quite often abbastanza spesso quite often useful that's useful il tuo inglese è bellissimo è chiaro fossero tutti come te capire l'inglese al novantanove per cento mi fa piacere hai un ottimo accento italiano grazie grazie io accetto sempre molto volentieri i complimenti quindi grazie grazie debo desai devo desayunar desayunar grazie i need to have dinner debo desayuno it's one of my favorite words in spanish desayuno love that word cosa mangerai non so ancora non è deciso devo vedere non lo so i don't know non lo so i don't know i didn't know non lo sapevo i didn't know you were here non sapevo che tu fossi qui i didn't know you liked that non sapevo che ti piacesse i hope you'll like it spero che ti piaccia this is what i do all day long all day long is just phrases like this that's all i do questo è tutto quello che faccio questo è tutto quello che faccio this is all this is all that i do this is all that i do questo è tutto quello che faccio allora fantastico desayunar is to have breakfast fare prima colazione wonderful all right guys so yeah i really appreciate all of the comments if you've got anything else to say any other questions let me know fatemi sapere fatemi fatemi sapere ad un gruppo fammi sapere una persona fammi sapere cosa ne pensi let me know what you think fammi sapere cosa ne pensi let me know what you think fatemi sapere cosa ne pensate let me know what you guys think or let me know what you think you guys have una cosa che aggiungiamo perché non esiste il you plurale in inglese diciamo sempre you fatemi sapere cosa ne pensate i like to add the voi at the end for emphasis fatemi sapere cosa ne pensate voi sounds nice right that's style over time you get your style fammi sapere cosa ne pensate ne pensano yeah fammi sapere cosa ne pensate that is true that's actually a very good point francesco you will come across many situations in italian where we begin a sentence by using the to form the to form but then we finish it with the voi and vice versa i do this all the time you do it without even realizing it you begin by addressing a group of people with the plural you and then you switch it to the singular happens a lot but the thing with style la questione dello stile si la questione dello stile the thing about that's how i would translate you know the thing about style like questione dello stile is that it's something that you cultivate over time it's something you create over time you adapt over time you see things that different speakers use that you like and you incorporate it into your lexicon into your vocab si aggiunge al proprio lessico o al proprio vocabolario so that's how i do stuff for example i learned to say no at the end of things in italian i heard someone use it one time i loved it so much it's now really natural for me i'll say no i'll say that all the time not just a bello i'll say a bello no i love adding that no at the on to the end and so that's the that's the thing that i incorporate so you you kind of just so what you how you speak is an example of all the people you've met it's a reflection of all the people you've met it's beautiful you're taking a little piece of everything that you've met every everyone that you've met along your journey with you um so yeah so i think that makes sense and uh and yeah i hope you guys have enjoyed this video spero che vi sia piaciuto questo video i hope that you guys enjoyed this video spero che vi sia piaciuto questo video what could i also say i hope you guys enjoyed this live what is a live una diretta spero che vi sia piaciuta questa diretta we can then specify so i hope you guys enjoyed this live i hope you guys enjoyed this live spero che vi sia piaciuta questa diretta you can also say non non lo so dov'è il libro you could just say non lo so dov'è or non lo so dov'è il libro you can specify l'ha detto la ragazza instead of just saying l'ha detto you can say l'ha detto la ragazza you can specify using the object pronoun l'ha detto we know given context it would be that she said it i'm just throwing out a random thing here but it's very common in italian to say l'ha detto la ragazza all style it's all style so yeah very nice my friends very nice all right guys so adesso concludo questo video okay adesso concludo questo video so now i'm going to close up this video that's what i like to say in english now i'm going to close up this video adesso concludo questo video okay spero che vi sia piaciuto i hope you guys have enjoyed it i hope you liked it always remember to spread the love and please let me know down below in the comments if you guys have any questions if i made any mistakes feel free to correct me i'm here to learn just as much as you guys are and that is it thank you guys for watching i'll see you guys next time va bene ciao ciao